In questo video ho per voi ben 5 gadget tech per la vostra produttività. Vanno bene sia su dispositivi mobili come iPad ma anche smartphone, così come su dispositivi Mac e PC Windows. Ovviamente subito dopo la sigla. Amici, bentrovati qui sul canale. Come vi dicevo oggi ho per voi ben 5 gadget tech che ho raccolto nel corso del tempo e sono quei gadget che hanno contribuito ad aumentare la mia produttività ma anche quei gadget che mi hanno facilitato soprattutto in condizioni particolari non solo quando mi trovavo qui in studio ma anche quando ero fuori gadget alcuni di loro che possono essere trasportati davvero con estrema semplicità e soprattutto senza creare problemi di spazio ma li vedremo a breve. Qualcuno di loro lo avete già visto in altri video ma oggi li ho voluti concentrare proprio qui con questa tematica anche per favorire chi cerca qualcosa di questo tipo. Ovviamente ve li lascio tutti i linkati qui sotto in descrizione quindi potrete raggiungerli tranquillamente, approfondire anche le loro caratteristiche e come sempre li trovate anche sul mio canale Telegram delle offerte quindi date uno sguardo perché ci sono davvero super sconti prodotti davvero a prezzi eccezionali cercate Jutech su Telegram. Ma adesso mi fermo e andiamoli a vedere uno per uno. Il primo gadget tech del quale vi voglio parlare è una base per iPad ma pensata anche per computer portatili e sì infatti proprio la base di appoggio è abbastanza ampia da permettere la collocazione di questi dispositivi davvero con estrema stabilità ma soprattutto con estrema semplicità. È una base marchiata by easy ed è costruita interamente in metallo anche un po' pesantuccia se vogliamo. Comunque è una base pieghevole ma anche girevole infatti permette una rotazione di 360 gradi e questo favorisce non solo il corretto collocamento del nostro dispositivo in base alla situazione nella quale ci troviamo ma volendo si può anche girare proprio per permettere ad una persona che sta di fronte a noi di vedere quello che noi stiamo vedendo quindi va anche bene in quelle fasi in cui ci si trova a vendere un prodotto a dover far vedere un progetto ad un'altra persona. Come dicevo una base pieghevole infatti si può utilizzare davvero in tante posizioni la parte proprio di appoggio è anche forata per permettere ecco la fuoriuscita del calore e quindi la sua dissipazione. Ma vediamola un po' più nel dettaglio proprio perché lei è una base 8 in 1 dotata davvero di tantissime porte sul lato destro guardandola frontalmente troviamo ecco le porte per inserire una micro sd ma anche una sd così da poter lavorare sulle nostre fotografie in estrema tranquillità e troviamo anche una porta usb di tipo c per il collegamento ai nostri dispositivi fino a 5 gigabit al secondo nella parte posteriore ecco che troviamo le porte più interessanti infatti abbiamo una power delivery in che fino a 100 watt permette la ricarica dei nostri dispositivi quindi potremo caricarci sia tablet sia smartphone volendo anche se non è questo l'uso per la quale è pensata ma anche i nostri computer quindi da avere sempre la ricarica al massimo livello. Troviamo anche un HDMI out che supporta schermi fino al 4k 60 hertz ma troviamo anche una porta di rete gigabit ethernet e dall'altro lato due porte usb di tipo 3.0 quindi estrema velocità ed anche un jack audio per collegare le cuffie in sostanza un vero e proprio hub una base che permette di avere tutto in uno e soprattutto di andare a gestire la cavetteria in maniera davvero pulita. Ma quando non abbiamo la possibilità o semplicemente non ci occorre una base ecco che per ottimizzare proprio quella che è la portabilità serve sicuramente un dispositivo più compatto ed oggi voglio parlarvi dell'hub di Ugreen Ugreen è un marchio ormai affermatosi in maniera definitiva a mio avviso perché la qualità dei loro prodotti non si evince solo dal prezzo non sempre contenuto ma proprio dalla qualità dei materiali soprattutto dalla stabilità della connettività che Ugreen sia in campo di ricarica sia in campo di trasferimento dati ecco ci mette perché rimane sempre costante non abbiamo sbalzi insomma dei dispositivi davvero ben fatti come vi dicevo voglio parlarvi questa volta di un hub 10 in 1 e sì 10 possibilità di connettività da un lato presenta una porta USB di tipo C fino a 5 gigabit al secondo ben tre porte USB di tipo 3.0 super veloci da un lato presenta invece una porta Ethernet gigabit e dall'altro ecco le vere e proprie chicche abbiamo lo slot per la SD lo slot per la micro SD e soprattutto ben due porte HDMI e sì perché lui permette di collegare un MacBook, un iPad, un tablet, un PC Windows su ben due display pensate riesce a supportare fino a risoluzioni di 8K a 30 Hz oppure due schermi 4K a 60 Hz un hub estremamente potente un hub alimentato da una porta power delivery fino a 100 Watt anche lui dunque può essere utilizzato ma lo abbiamo già capito sia su dispositivi che impegnano davvero tanta potenza ma anche su dispositivi più semplici e il tutto per aumentare dicevo la nostra produttività e il terzo gadget tech di oggi è sempre marchiato Ugreen questa volta vi parlo di un power bank MagSafe ma perché ho voluto inserirlo all'interno di questo video e sì perché lui certamente si adatta alla perfezione in ambito MagSafe a quelli che sono i dispositivi Apple ma sapete bene che anche su smartphone di altre marche che supportano la ricarica wireless è possibile sempre applicare un anello che poi lo va a tenere e permette la ricarica ma il motivo principale essenzialmente la sua potenza 10.000 mAh e permette una ricarica dei dispositivi fino a 20 Watt può grazie alle sue porte ricaricarne ben 3 sul MagSafe arriva fino a 7.5 Watt ma come dicevo può ricaricare 3 dispositivi alla volta grazie ad una porta power delivery a una porta USB di tipo A con tecnologia Qualcomm che supporta pensate fino a ben 22 Watt mentre la parte MagSafe appunto supporta fino a 7 Watt e mezzo la sua comodità sta nel fatto che nella parte posteriore è dotato di un piedistallo super resistente non si piega neanche a farci forza ma lui può essere appoggiato tranquillamente sulla scrivania alimentare i nostri dispositivi come un tablet in questo caso uno smartphone tramite il MagSafe ma pensateci qualora aveste un iPhone soprattutto quelli di ultima generazione ecco posizionandolo in maniera orizzontale potrete avere sempre con voi l'orologio e il datario o altre faces per intenderci proprio perché la tecnologia Apple permette qualcosa di questo tipo insomma un gadget che vi permette di alimentare tutto in estrema semplicità anche questa volta e soprattutto con un risparmio di cavi notevole e il quarto gadget tech del quale voglio parlarvi sicuramente è pensato per la portabilità ma non troppo perché effettivamente le sue dimensioni sono abbastanza grandi anche se ricordiamoci che portabilità non necessariamente è sinonimo di tascabilità vi sto parlando di un paio di cuffie delle Logitech Zone Wybe 100 sono delle cuffie estremamente leggere soltanto 185 grammi e soprattutto la loro conformazione mi riferisco particolarmente a quella dell'archetto ecco permettono di stare comode anche per parecchie ore senza far male alla testa infatti sono completamente costruite in tessuto ovviamente ci sono delle parti in plastica ma le loro rifiniture le rendono davvero accattivanti sono delle cuffie ben pensate da Logitech ovviamente sono delle cuffie smart cuffie bluetooth però indicate principalmente per l'utilizzo home ma anche l'utilizzo office non sono tanto pensate per l'ascolto musicale infatti sebbene abbiano dei driver per altoparlanti da 40 mm ecco che l'ascolto in cuffia è piuttosto normalizzato non c'è un'esaltazione di bassi non c'è un'esaltazione di alti proprio per andare a percepire la voce il parlato per intenderci nella maniera più corretta possibile tra le loro qualità ovviamente abbiamo la presenza del microfono ma la particolarità è che lui è dotato di cancellazione del rumore attiva non in cuffia attenzione ma sul microfono e il fatto che si possa aprire e chiudere va anche ad attivare il microfono e a disattivarlo automaticamente penso per esempio a quando ci troviamo in una video call non dovremo stare lì a premere il pulsantino sul nostro display per andare a mutare il microfono con uno swipe verso l'alto ecco si chiudono e subito diventa tutto quanto mutato ecco delle cuffie estremamente belle non vanno a gravare sulla nostra testa perché i loro 185 grammi le rendono davvero comode ma soprattutto non sono fastidiose sono over-ear vanno a coprire tutto quanto il padiglione e questo insieme di predisposizioni le rendono perfette per qualsiasi testa sono regolabili ed esistono anche in diverse colorazioni nera, rosa e bianca tutte davvero bellissime e concludiamo con un ultimo gadget tech un gadget che non avrei mai pensato mi potesse servire così tanto soprattutto negli ultimi periodi vi sto parlando di una stampante marchiata VEVOR a tecnologia termica è una stampante con fili ma funziona anche tramite bluetooth tramite la sua applicazione vi ho portato una recensione completa qui sul canale magari andatela a recuperare o ve la lascio qui in alto nelle schede è una stampante da una risoluzione molto elevata 300 dpi e può stampare pagine per 150 mm al secondo sostanzialmente nell'arco di un'ora riuscirete a stampare ben 3600 etichette inoltre lei supporta etichette fogli fino a 4x6 pollici sostanzialmente 10x15 cm quindi potrete stampare su dimensioni effettivamente molto grandi ma ovviamente anche grazie ai suoi regolatori interni su fogli anche molto molto più piccoli si apre con estrema semplicità quindi non c'è pericolo per fogli incastrati o altro riesce a tirare via le etichette in maniera estremamente veloce c'è anche un tastino che permette alle etichette di scorrere ma in realtà può essere personalizzato anche per altri utilizzi e detto questo amici spero davvero che questo video vi sia stato di aiuto soprattutto vi abbia dato delle idee per l'acquisto di prodotti mirati ottimi, buoni e soprattutto di qualità ovviamente se così è stato un like, l'iscrizione al canale per me sono importanti sono una forma anche di ringraziamento se volete ma soprattutto mi stimolano a portarvi nuovi prodotti e ad alzare la qualità del canale vi ringrazio anche per i 30.000 iscritti raggiunti qualche giorno fa stiamo aumentando sempre di più continuate così e io cercherò di essere sempre meglio proprio qui sul canale un saluto e a un prossimo video ciao 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 ciao